Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'Evoluta e con Bitcoin. Analizzeremo con l'Evoluta stessa l'andamento di Bitcoin per vedere che cosa sta succedendo. Innanzitutto, oggi è venerdì 3 giugno, sono le 16.35 e finalmente dopo quanto mi aspettavo e che vi avevo raccontato tempo fa, ovvero una risalita per andare a chiudere un inverso e poi una discesa, abbiamo avuto proprio quello che era descritto dalle frecce gialle. L'abbiamo fatto in che tempo? Innanzitutto, partendo da questo massimo, guardate bene, l'abbiamo fatto in 27 barre per il primo T-3 inverso, avevo ciclo giornaliero inverso e guardate qua che meraviglia, 44 esatte per il secondo ciclo che parte da massimi, va su minimi e sviluppa massimi, durata massima. Avevo segnalato qui come possibile partenza del terzo T-3 inverso, ma mancava che cosa? Mancava lo swing, per cui, dato che mancava quello, non mi sono buttato a capofitto in un long quando ho avuto questa candela che ha violato il massimo da cui poteva essere partito il terzo T-3 inverso. Ho fatto esattamente quello che vi ho fatto vedere, ovvero ho calcolato a quanto tempo eravamo e ho aspettato. Ho aspettato ragionando anche di indice e di prezzi. Qui poteva aver chiuso il settimo T-3, supposto il settimo T-3, ma ormai è quasi conclamato che lo sia, no, 22 barre. Qui a 30? Buona come chiusura? Sì, in termini di regole sempre, non in termini di opinioni. E quindi, quando siamo andati a fare una violazione di questo minimo, in violazione dei 29.992 ho dato lo short e cosa è successo? Stiamo scendendo. Short che ho fatto chiudere a chi lavora nel breve quando c'è stata questa risalita, ma non per chi opera nel medio periodo. Anche perché ci sono vari segnali interessanti che portano a pensare a determinate cose. Allora, per il breve è ovvio che quello fosse il take profit, 24 barre. Stop stretto, eh? Ok. Per il medio ovviamente no. E vi faccio vedere come di consueto il gruppo premium. Se non siete ancora entrati short, quando siamo andati sotto i 29.992 USD, io vorrei di entrare, ok, almeno un chip su due, piazzati di stop loss, siamo andati ovviamente a fare gain. Avvisati delle 25 barre, ho segnalato che chi andava di fretta e voleva soltanto portarsi a casa il suo, poteva tranquillamente chiudere e appunto portarsi a casa un bel gain. E così è stato. Chi è nel medio si ricorda di che cosa dicevamo relativamente a qui. Facciamo un passo indietro. Anche perché quando c'è lateralità o non ci sono cose particolari sapete che non mi metto a fare video. Qui, nei video precedenti, potete riascoltarli, segnalavo che avevamo la condizione necessaria e sufficiente per che cosa? per la chiusura del secondo mensile inverso ma anche di un T più 3 inverso e che da qui raccordi inversi a parte che però dovrebbero avere una certa durata. Ovvero in questo caso dovrebbero essere lunghi un T inverso, un settimanale inverso, quindi siamo ancora dentro quella possibilità. ricordiamocelo sempre tanta gente parla di raccordi e raccordi inversi ma conosce la definizione perché se non la conosce non ha autorevolezza è un po' come una persona che non ha nessun curriculum non ha nessuna storia neanche sui social su piattaforme private, su trading view e dice vi racconto la verità ho un metodo che vi fa guadagnare tot al mese ma chi sei? perché è differente invece avere a che fare con qualcuno che uno, magari lavora nel settore questi video li faccio negli uffici di un SCF non con tutto rispetto parlando in una panetteria o in una palestra lavoro tutti i giorni sui video e tutti i giorni esce un video praticamente il mio storico lo potete andare a vedere serenamente non soltanto qua su YouTube dove ci sono oltre 1200-1300 video una roba del genere non ci sono tanti canali con tutti questi video ma potete poi andare a finire anche su trading view e alcuni mi hanno persino rintracciato con il mio vecchio nick da altre parti ecco, questo costituisce uno storico il curriculum è importante, giusto? perché se ho sempre fatto la colf fino all'altro ieri ho fatto il wedding planner ho fatto non si sa cosa e poi dico che ho un metodo che vi fa vi porta alla libertà finanziaria ok voi vi direste a farvi mettere le mani nel cranio per fare un'operazione per fare un'operazione al cervello da una persona che non si sa se sia medico che lavoro faccia e che non abbia un curriculum che non si possa verificare chi sia che magari non opera neanche in un ospedale valutate voi l'importanza di avere un curriculum e di lavorare nel campo come primaria attività peraltro mettendoci la faccia in ogni caso dicevamo che qui ci sono tutte le condizioni per aver chiuso un tipi 3 inverso un tipi 4 inverso e stiamo iniziando a spingere forte la freccia era questa due giorni fa ultima analisi fatta infatti abbiamo fatto la chiusura del secondo t-3 inverso e quando è partito poi effettivamente il terzo ci stiamo dando giù di brutto anzi guardate stiamo ancora scendendo per chi è nel medio periodo e non si è accontentato di un piccolo gain qui stiamo andando giù tra poco arriviamo qua sotto e rendiamo tutta questa parte ribassista perché? perché parte il secondo t-1 inverso t-2 inverso il ciclo a due giorni l'inverso è possibile primo secondo ve lo rischematizzo perché per chi è entrato nel canale da poco magari fa difficoltà a vedere l'inverso io ci ho messo tanto tempo a lavorare sull'inverso e non ne capivo bene le opportunità di training quando poi non mi sono messo ancora di più a lavorare sulla cosa eccoci qua primo t-3 secondo t-3 fanno il primo t-2 inverso il secondo se già andremo sotto questo minimo a 29.346 ecco renderà tutto questo due giorni di indice invece ovvero questo ribassista primo t-3 lato prezzi secondo t-3 lato prezzi ribassista certo è un rischio rimanere dentro short oltre determinati segnali che servono per il training intraday ma uno deve sempre scegliere che cosa vuole fare trado l'intraday o trado il medio periodo qui tra l'altro voglio mettere un bel campanellino 29.346 eh ormai li sta facendo sono a 362 perfetto in ogni caso è importante stabilire il trading cycle che si trada facciamolo più facile il ciclo il tempo che voglio tradare voglio tradare il settimanale la partenza di un t-3 inverso di un minimo un t-2 inverso che cosa voglio fare temo che possa esserci un raccordo che quindi si possa un raccordo inverso che quindi si possa ritornare verso l'alto voglio essere più tranquillo in base a tutte le cose stabilisco dove mettere gli stop loss con che percentuale voglio lavorare oltre data dagli swing più gli stop loss e tante altre cose il trading non è improvvisazione non è improvvisarsi a raccontare di un metodo mirabolante di cui non c'è alcuna traccia da nessuna parte e continuare a far vedere video dopo video come faccio con l'analisi evoluta con la mia evoluta che risultati sono di un certo tipo facendovi persino vedere come detto come programmiamo in anticipo 12.57 c'è tutto trasparente tutto definito che cosa facciamo e dicendovelo anche in anticipo tanto in anticipo perché qui quando ho dato la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del t più 2 inverso e del t più 3 inverso iniziando a vedere magari un movimento come questo uno dice ma siamo proprio sicuri che da qui sia partito un nuovo settimanale perché perché a livello di tempo siamo a posto giusto oltre un t meno 2 rialzista parzialmente rialzista poi si è scesi però eccolo qua dunque era 346 331 perfetto in tempo reale ve lo faccio vedere poi qui siamo all'inizio di un possibile t più 2 inverso barra t più 3 inverso ovvero mensile o trimestrale quindi non utilizzo uno stop per un trade giornaliero per tradare sul trimestrale e peraltro se voglio essere tranquillo e sicuro lo stop loss per la partenza del trimestrale io lo piazzo sopra questo massimo a 32.407 dollari e non lo sposto di lì fino a che non succedano determinate cose poi man mano lo sposto magari qui e via di seguito per cui l'importante volevo risottolinearlo oggi è prima di tutto chiarirsi in testa trado di breve periodo giornaliero t meno 3 o trado per un medio periodo un t più 2 inverso un t più 3 inverso eccetera eccetera cambia tutto cambia l'ottica cambiano gli stop cambiano le percentuali cambia tutto completamente perché la ciclica si adatta al tempo per cui se ho superato la 24esima barra e inizio a farmi una barra verde e uno stop stretto mi prende se no continuo a scendere se è uno stop qua o che l'ho spostato qua o che temporaneamente l'ho spostato qua e non lo sposto continuo a lasciare andare il trade anche oltre la 24esima barra pensavo che magari determinate cose fossero chiare preferisco invece a beneficio di tutti anche chi appena ha scoperto questo canale ribadire determinati concetti che comunque sono fondamentali e che si possono trovare sui libri piuttosto che in tanti altri posti e ritornando sul medio periodo faccio anche notare il fatto che qui siamo arrivati a 26 barre ma se trado il medio sono altro che sono più che disponibili ad aspettare non soltanto le 44 barre che arriveranno domani mattina alle 5.45 ma molto di più anche perché qui ho già avuto un bel segnale che mi dice ottimo che ti sei messo short c'è un death cross qua death morte e i prezzi sono scesi sotto le due medie mobili sotto la nostra nuvoletta cumo abbiamo ancora tutto il tempo per fare fino a 11 t-3 prima di dare un rimbalzo ecco perché ho segnalato per sicurezza se t-3 anche perché lo swing per far partire un nuovo settimanale era un po' distante mentre invece da questo top siamo scesi talmente velocemente bene con volumi che ho subito segnalato che questo era lo swing per il nuovo t-inverso e quindi qui sapevamo già che partiva un settimanale inverso se partiva un settimanale è vero che si può ancora collegare a questo t-p2 ma non quando inizia ad andare troppo giù diventa diventa statisticamente difficile che faccia ancora parte di quella cosa lì e quindi che cosa può essere o un raccordo inverso di sappiamo minimo 6 giorni massimo 11 giorni ma deve avere determinate caratteristiche se no non potrà essere considerato oppure più semplicemente parte minimo un t-p2 inverso mensile inverso un t-p3 inverso fine abbiamo tempo per poter scendere e far partire questo possibile nuovo t-p2 inverso a quanti giorni siamo arrivati in un'all giornato di t-p2 mensile siamo arrivati solo a 22 non siamo neanche arrivati a 24 barre e quindi se non siamo arrivati a 24 barre abbiamo tutto il tempo per arrivare fino a 43 barre ovvero visualizziamo sempre le cose per renderle più semplici 43 barre fino a 26 di giugno possiamo continuare a provare a scendere facciamo un ragionamento in modo semplice e di nuovo ragionamento in base alle regole in base a tutto ciò che c'è dentro l'evoluta e tutto ciò che ci può aiutare a capire dove siamo qui siamo di nuovo tornati con il minimo appena fatto a che cosa al 50% di fibonacci ci siamo appiccicati qui abbiamo fatto un movimento molto rapido che ha fatto pensare ad alcuni che saremmo andati to the moon invece a noi che ragioniamo di evoluta questo massimo ci ha detto chiusura di qualcosa di inverso e quando chiude l'inverso poi parte un altro inverso e quindi si scende altro che è to the moon però queste cose le sapete se studierete le saprete se studierete fa anche rima se non le studierete sarà arabo questo canale non vi servirà assolutamente a nulla ma non si ottiene anche nulla se non c'è impegno quindi iniziamo a vedere se ci sblocchiamo da questa da questa linea mediana di movimento ricordiamoci che appunto siamo arrivati a otto giorni su e che in realtà abbiamo tutto il tempo del mondo per ritornare a scendere qui da quando abbiamo avuto la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di che cosa? per la chiusura del nostro annuale iniziato dal minimo del 20 di luglio 2021 si poteva pensare a una partenza di un nuovo annuale sì ma con una spinta ben differente che fare un massimo qui e poi continuare a fare massimi decrescenti con peraltro la divergenza ribassista di massimi crescenti sull'indicatore MACD o MACD che dir si voglia poi questo ha buttato fuori tanti ha stordito tanti una candela così quella del 30 maggio dai sta ripartendo qualcosa no ha chiuso qualcosa e quando chiude poi riparte qualcosa ed ecco il motivo per cui la freccia è rivolta verso il basso tempo ricordiamoci che anche in questo caso siamo arrivati a 318 bar su massimo 336 limite tra l'altro che non appartiene a nessun altro se non al sottoscritto per cui se lo trovate sapete che c'è qualcuno che copia proprio 336 dato che sono 336 sono 18 giorni ancora che possiamo giocarci per scendere 18 giorni più 21 giorni quanti giorni fa? 39 siamo nei 44 per cui questo può diventare ancora un mensile appartenente a questo tp4 a questo annuale e prima di un rimbalzo serio può volerci ancora del tempo e il tempo lo sappiamo già la cosa bella è che abbiamo 18 giorni non un mese un anno il target l'estate e tutto quello che volete e con cui magari in altri canali vi raccontano bubole qui seguiamo passo a passo e quando c'è l'opportunità entriamo se non c'è l'opportunità non rischiamo di bruciare il capitale facendo mille operazioni tutti i giorni perché se bruciamo il capitale non facciamo più trading se invece abbiamo la pazienza di attendere anche per giorni un segnale come questo una violazione di swing come questo chi è che ci viene a prendere noi ci portiamo a casa soldi fine fatto chiuso sia nel breve periodo che nel lungo periodo questa è la differenza rispetto a metodi non statistico matematici e discrezionali quelli che vi parlano di formule magiche ma che poi non vi raccontano come funziona questa formula magica se non sai giustificarmi i movimenti in base a tempo prezzi volumi e tutto il resto se non mi fai vedere qualcosa di eclatante amici miei io faccio trading da oltre 25 anni non è poco e questo fa curriculum significa essere una persona più affidabile di un qualsiasi parvenu non lo so ditemelo voi per cui cosa facciamo adesso come al solito adesso che ci siamo portati a casa il nostro gain se l'abbiamo fatto di breve periodo o se siamo ancora dentro di medio periodo aspettandoci quello che è adesso iniziamo a fare una cosa interessante questo può essere un primo movimento a quanto tempo siamo arrivati di inverso per sapere che cosa può succedere siamo arrivati a 22 barre minimo ne dura 24 il nostro il nostro terzo t-3 inverso in media 32 al massimo 43 c'è tutto il tempo per vedere se questo minimo lo tiene e se parte di conseguenza che cosa un nono t-3 o un nuovo t-3 giornaliero che fa partire un nuovo settimanale perché la domanda si ripone come quando eravamo qui chi ce lo dirà e ce lo diranno come di consueto tempo e swing quindi nel gruppo premium racconterò dove passa lo swing per un nuovo t-settimanale così sapremo se valutare posizioni long per la spinta oppure continuare a rimanere short oppure aspettare un rimbalzo di una certa durata cosa serve per partire un t-settimanale ormai lo sapete se non lo sapete richiedete gli appunti gratuitamente a info chiocciolafinancialarmor.eu e quando sapete le regole sapete anche che cosa serve per partire un t-ciclo settimanale serve un due giorni sopra questo minimo due giorni che sono giorni ciclici quindi 24 più 24 barre minimo da 45 minuti time frame che ormai mi copiano tutti per cui sono il primo ad averlo utilizzato ed elaborato con un criterio non a caso qui le cose non le facciamo a caso tutta una giustificazione nella definizione e rientra nelle regole per cui aspetteremo di vedere se questo sarà il minimo definitivo nel caso vedremo dove passa lo swing per un nuovo t settimanale faremo anche i conti con il tempo per vedere che invece non sia un fuoco di paglia e si continua a scendere perché tempo ce n'è fino all'undicesimo t-3 e qui c'è una quantità di tempo mostruosa se da qui sta partendo effettivamente un tp2 inverso un tp3 inverso spero di non averla fatta troppo lunga ma siamo vicini a 22 minuti vi ringrazio per la pazienza se queste analisi vi danno spunti e vi fanno vedere che andiamo effettivamente in gain nel gruppo di trader che coordino mettete un bel like sotto scrivete il canale parlatene agli amici che sono stufi di cercare o notizie strane o seguire youtuber che non hanno un curriculum di nessun genere come trader e che magari vi raccontavano che a Natale si andava i 95.000 quando io vi dicevo che partiva un annuale inverso vi ringrazio per il vostro tempo arrivederci